E buonasera amici, rieccoci anche per un nuovo video, un nuovo video nel quale parleremo, faremo un aggiornamento sull'omicidio di Faenza, di Ilenia, quindi quest'altro fatto di cronaca che in questo periodo sta riempiendo insomma un po' tutta l'informazione di cronaca. Le notizie trapelano molto lentamente perché questo tipo è un tipo di indagine non solo molto delicata ma nella quale essendo coinvolti pochi personaggi non c'è diciamo la speranza che una catena di omestà venga interrotta. Per cui ci troviamo di fronte diciamo al fatto nuovo di questo killer che è stato immostalato da una telecamera lì nei pressi dell'abitazione di Ilenia. Perché si dice è il killer? Innanzitutto perché noi dobbiamo sempre fare un'analisi di buon senso sulle cose. alle 5.50 circa, cioè alle 6-10 del mattino ma si può dire della notte perché quando è stato commesso questo omicidio diciamo i primi bagliori dell'albero erano poco prime delle 7 quindi parliamo di ore notturne. Quindi se una telecamera a pochi metri, a 50 metri dalla villetta di Ilenia si inquadra un uomo di notevole corporatura con un giubbino e un cappuccio in testa che all'aria fustiva e all'aria di chi aspetta qualcosa certamente non si può pensare amici miei che si tratti di un passante oppure uno che fa quattro passi e nemmeno uno che porta voglio dire in giro il cane non essendoci il cane. Quindi è ovvio che si deduce ciò. poi è importante anche perché la corporatura, l'altezza, corrisponde alla descrizione fatta dall'amica della figlia di Ilenia. Quindi perché è importante questo? Perché stiamo arrivati al punto in cui è assodato che l'assassino è giunto fuori dall'abitazione prima delle 6, può darsi 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora prima comunque aspettava lì. Ora già il fatto che aspettasse lì è un grave indizio nei confronti del marito. del marito perché? Perché nel momento in cui si potesse supporre che un ladro nottetempo entri in casa non si sa perché lo debba fare esattamente a quell'ora alle 6 di mattina e subito dopo che il marito si è allontanato con la figlia. infatti si suppone che egli attendesse appunto l'arrivo del marito che alle 6, meno pochi minuti, alle 5 e 57, quindi esattamente, manda un messaggio alla figlia che scende, salgono in macchina, poi già alle 6, 6, 7 minuti arriva l'allarme, l'allarme dell'amica, della figlia. Quindi il killer è entrato alle 6 e in quei 3, 4, 5 minuti ha messo a segno il colpo. Quindi bisogna, è un killer un po' diciamo sproveduto, ma è un killer che è entrato solo ed esclusivamente per uccidere. Questo è assodato perché per i pochi minuti non ci sono segni di affrazione, non è stato postato via niente, era per uccidere. Quindi è inutile che adesso si affaccia in ipotesi, ma chissà chi era, forse cercava qualche altra cosa. Non cercava niente, non cercava niente. Cercava soltanto di uccidere. E ha lasciato il suo DNA perché essendo comunque uno un po' sproveduto, quindi non un killer di professione, è stato, sempre accettato anche questo, è stato ferito dalla reazione di Ilenia che si è difesa, come dire, con le unghie e con i denti. E quindi il DNA sicuramente verrà ricavato, verrà ricavato, ma io non credo, non credo che possa essere di grande utilità. Vi spiego perché. Perché questo killer certamente non penso sia di entri fra le conoscenze o le amicizie del marito, perché sarebbe assurdo che un amico o un conoscente, nonostante benché pagato, possa arrivare a tale feratezza. Più probabilmente può essere qualcuno venuto da fuori, ora non per fare discorsi di un certo tipo, per carità, capitemi bene, ma magari dando dei soldi a persone, non so, qualche extracomunitario, qualcuno magari più avvezzo al crimine, alla malavita, che a volte anche nell'ambiente della droga si trovano questi soggetti che per una somma anche non grossa arrivano a fare di tutto. Quindi se è così, se il killer non rientra nelle conoscenze e nelle amicizie dell'ex marito, vuol dire che difficilmente si arriverà ad esso, molto difficilmente si arriverà ad esso. Quindi l'indagine è complicata per questo. Poi ci sta la variabile dell'amica e della figlia che è stata messa sotto protezione, sotto scorta, perché si teme che il killer possa ritornare, possa vendicarsi, possa temere qualcosa, anche se è poco probabile, ma capisco il timore della ragazza e della sua famiglia. Purtroppo questa ragazza è una variabile impazzita di questa storia, perché non prevista, non prevista, non doveva andare così. Ecco, questo è un altro elemento chiaro, basilare, non doveva andare così. Cioè se sposiamo la tesi che il marito è il mandante, se sposiamo questa tesi qua, allora dobbiamo pensare che egli aveva calcolato di postare con sé la figlia e una volta partita entrava il killer in azione, poi il tutto si sarebbe compiuto e scoperto al limite, diciamo la sera, quando la figlia stessa, quando la figlia sarebbe ritornata a casa. Invece non è andato così. Non è andato così, cosa è successo? È successo che questa ragazza, ora non so se gliela ha chiesto la figlia, o dietro a pressione della stessa Ilenia che non voleva restare comunque a dormire da sola, perché temeva qualcosa. Fatto sta che l'ex marito non sapeva, non sapeva di questa persona in casa. Questa persona in casa ha avuto il merito, diciamo, di far scattare subito l'allarme immediatamente, quindi di sconvolgere un po' tutti i piani e forse ancora di più poteva succedere, poteva succedere pure che il killer non sapendo andasse dritto nella stanza sbagliata e potesse uccidere questa ragazza al posto della moglie. Non è andata così perché evidentemente gli era stata spiegata bene qual era la stanza, qual era esattamente la stanza dove agire e quindi è andato dritto entrando addirittura per la porta secondaria della quale inevitabilmente è chiaro che avesse le chiavi e egli stesso non si aspettava che ci fossero altre persone. Quindi questo fatto qui, quest'allarme immediato, ha un po' scombustolato i piani e quindi ha fatto in modo che adesso ci fosse questo programma di protezione per la ragazza. Ora siamo in attesa dei responsi del laboratorio di RIS e vedremo un po' cosa esce fuori. Poi si sta cercando anche di ottimizzare le immagini di quella telecamera che ha preso il killer per renderle quanto più chiare possibile in modo da avere un'idea per vedere se si riuscisse insomma a risalire anche al killer. Queste sono le novità amici miei per l'omicidio di Elena Fabri e vi rimando al prossimo video, eventualmente vi fossero delle novità. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti.